Salve a tutti. A distanza di quattro mesi dall'alluvione che c'è stata a Verona, fine ottobre, primi di novembre 2018, guardate, sono nello stesso punto e questa è la situazione. Siamo passati da un estremo all'alto. Ora c'è il rischio che si secchi il nostro fiume Adige. Un saluto e speriamo che si metta a piovere presto. Ciao.